Ci è sembrato doveroso oggi osservare un minuto di silenzio a seguito dell'appello lanciato dal sindaco e dal presidente della provincia di Bergamo per come tra l'altro rilanciato anche dal presidente del lancio Antonio Di Recaro e dal presidente della provincia di Cosenza Franco Iocucci per onorare tutte le vittime, le tantissime vittime del coronavirus in Italia ed anche per dare un abbraccio, dare idealmente un abbraccio a tutte le famiglie delle vittime e a tutte le persone che stanno combattendo questa battaglia in prima linea a partire da tutti i medici e dagli operatori sanitari. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.